Per entrare in questo nuovo mondo misterioso, Paola è costretta a salire sul cigno magico. Cioppi non avere paura, in qualche modo se ne andremo da qua. Ma la torre Eiffel! Eiffel! Grazie a tutti La most amazing scena Benvenuta forestiera Da dove vieni? Via del mandrione Ma che posto è questo? Questo è il regno dei circensi Conosci i circensi? No Non sei mai stata nella contea di Winsbru? No Ma lei come si chiama? Il mio nome è Febo E' bello come i suoi Forse è un regno Posso staccare, signor? Io sono il re E questo è il mio gozzo invertebrato Ma che cos'è questo suono? Il tuo coniglio e il mio gozzo non vanno d'accordo Ma la chi è? Lei è la damanera Non è mai sentito parlare della damanera? No Signor Febo mi aiuti Non so come sono arrivata qui Penso di essere in pericolo Non ti preoccupare Ti proteggerò io A patto che tu mi sposi Ma io amo già un altro Ma io amo già un altro Che importa Tu qui sarai la regina Io realizzerò ogni tuo sogno Ma io ho già un sogno Dimentare fotomodella Che c'è? Non ci crede? Spento Ma non mi importa Tu verrai con me Mi lasci 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 non lo so lo lo no 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 Grazie a tutti. Li abbiamo seminati. Cioppia, questa è una casa. Dici che potremo entrare? No, sono benvenuti. Che strano, io lo conosco questo posto. Ci sono già stata? Ma quando? E in quel preciso momento, mentre Paola si interrogava sul suo futuro, apparve la risposta a tutti i suoi dubbi. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ma chi sei tu? Io sono Paola, del mondo dei superfighetti, e sono qua per ucciderti. Chi è, Cioppi? Cioppi, insieme al contratto Mortis, ho trovato questo squattero. Carlo! Questo stronzo, per farlo star zitto, mi ha rovinato la pashmina di dolce cappana. No! Ma non importa. Quel che è fatto è fatto. Devo uccidere. No! 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 Ahaha 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 Grazie a tutti.